allora partiamo proprio dal presidente dell'inps dalla culla alla tomba l'inps c'è ma l'inps è anche importante per il futuro del nostro paese allora qualche flash su perché questa affermazione che è un po il titolo del primo capitolo è così importante per tutta l'italia sì grazie innanzitutto di questa accoglienza e della dell'opportunità io penso che questo libro sia importante per due ragioni poi ovviamente ognuno potrà leggerci molto di più da una parte perché viene rappresentato come dire anche in modo documentato quanto importante sia l'inps la spesa dell'istituto che è la metà della spesa pubblica del paese per i conti nazionali quindi muovere le leve delle spese dell'istituto vuol dire muovere le leve della spesa pubblica del paese in termini in dimensioni massicce enormi soprattutto farlo con longimuranza cioè pensando a ciò che potrà succedere tra vent'anni gli effetti di una policy implementata oggi potranno avere effetti persistenti nel tempo come abbiamo visto ad esempio nel caso delle baby pensioni di cui parliamo anche in uno dei capitoli dimostra quanto sia importante appunto agire con cautela per su questo su questi temi la seconda è che probabilmente viene rappresentato in modo plastico l'importanza del lavoro e della demografia per il sistema pensionistico oggi viene come dire a tutti è noto il problema del calo demografico e le conseguenze di esso perché molti giornali a livello mediatico hanno detto ciò che gli esperti da tempo avevano messo in allarme ovvero il fatto che le nascite sono troppo troppo poche sotto la soia di 400 mila effettivamente in prospettiva 400 mila nati è un dato che nella transizione demografica sui livelli di pensionamento che abbiamo oggi pone delle criticità ricordiamo che oggi vanno in pensione coloro che sono nati nel 1958 60 che erano un milione all'anno e oggi nascono 400 mila all'anno il nostro sistema ripartizione per cui 400 mila all'anno tra vent'anni vorrebbe dire con i medesimi tassi di occupazione circa 150 mila occupati 70 mila laureati soltanto di questi 400 mila occupati con i tassi di scolarizzazione attuale se nulla cambia e quindi in prospettiva abbiamo 150 mila noi occupati e una mole molto più grande di pensionati per via appunto della corte di trascinamento dei nati nelle corti precedenti e questo pone una criticità ecco il libro evidenza sostanzialmente il legame che c'è tra lavoro la demografia e la tenuta dei conti nel sistema pensionistico perfetto adesso un passaggio con la professoressa fornero che già ministro del lavoro sul tema nel tempo si sono fatti si sono fatte delle scelte come ad esempio le baby pensioni che continuano a essere erogate a una platea anche significativa ecco questi sono errori figli del loro tempo oppure sono errori che si possono ripetere e poi ancora il modello di avere un sistema legato a un posto tendenzialmente fisso può essere un qualche cosa che non è più adeguato ai tempi attuali grazie un grazie per l'invito mi fa piacere essere qui a discutere questo libro del presidente tridico è un libro che io definirei onesto e guardate che non è una piccola qualità perché nelle cose che si scrivono si dicono anche nei dibattiti pubblici direi che l'onestà di ciò che si scrive o si dice non è così frequente è un libro onesto perché rappresenta i problemi senza cercare la benevolenza dei politici non la non la cercata prima col precedente governo non la cerca ora col governo nuovo è un libro che non drammatizza le questioni come invece capita spesso quando per esempio si è in televisione tutti i problemi devono essere drammatizzati perché altrimenti non generano apparentemente ascolto e questo è un pessimo modo di discutere i grandi problemi della società in una discussione civica con un'occasione di dialogo sociale e credo che tutto ciò contribuisca abbastanza a deteriorare il clima del paese e la sua situazione quindi io vorrei soprattutto rappresentare questo libro come un esercizio di divulgazione rigorosa con che ha l'intento di contribuire a una discussione al tempo stesso più seria più serena neutrale e vorrei anche dire lungimirante e per questo io mi complimento col presidente dopo di che parlando e presidente ha detto una cosa importante che come economisti noi conosciamo bene e cioè che non si possono vedere le pensioni di una persona senza considerare la sua vita di lavoro perché le due cose stanno insieme stanno insieme inevitabilmente e questo ce l'ha insegnato il nostro unico premio Nobel in economia Franco Modigliani che ha per primo forse esattamente impostato lo studio della formazione del risparmio previdenziale e della sicurezza sociale esattamente all'interno di uno schema analitico che guarda la vita delle persone come una prima parte dedicata all'istruzione e alla formazione professionale una seconda dedicata al lavoro in cui si ha un reddito che serve anche per accantonare per la previdenza accantonare in modo reale finanziario con i fondi pensione che in America sono molto più importanti che da noi oppure in maniera virtuale se siamo in un sistema di sicurezza sociale dove in realtà i contributi contano ma non sono quelli che vengono impiegati nei mercati finanziari perché quelli che entrano escono immediatamente dall'Inps per pagare le pensioni correnti quindi Pasquale Tridico ha molte responsabilità ma non ha quella di investire i fondi anzi ha quella di integrarli perché quelli che entrano con i contributi non bastano mai questo è il primo punto la connessione stretta che c'è tra lavoro e pensioni ma c'è un altro punto che non è sempre molto chiaro ed è e arrivo qui alla risposta non la eludo ed è il fatto che un sistema pensionistico fatto come il nostro senza riserve finanziarie perché non ci sono è un sistema che lega indissolubilmente le generazioni presenti e anziane con quelle giovani e future ed è qui che la politica deve su questo che la politica deve fare i suoi conti perché questo sistema è fatto non per l'oggi ma è fatto per l'oggi per il domani anche per il dopodomani perché i giovani che entrano oggi faticosamente nel mondo del lavoro che entreranno domani speriamo non altrettanto faticosamente nel mondo del lavoro non chiedono di poter entrare o di poter non entrare nell'Inps lo fanno obbligatoriamente perché il contratto è un contratto pubblico lo stato ti dice se lavori devi pagare i contributi è questo che dà origine a una sorta di come dire divario tra le regole dei politici della politica diciamo che sono regole dettate spesso da bisogno di ottenere consenso elettorale nel breve periodo e invece l'esigenza di stabilire quelle regole per il lungo termine per cui c'è questo gap questo vuoto scusate il termine inglese in molti ranno ma questo divario è all'origine di molti problemi e quando si facevano in passato si sono fatte in passato delle norme molto miopi perché non ci si fondava sulle proiezioni demografiche il sistema della previdenza pubblica americana da sempre cioè da decenni e decenni fa proiezioni a 70 anni sulla demografia e anche sull'economia su quelle proiezioni si cerca di tarare di far navigare il sistema noi quando si disse per primo lo disse il mio maestro onorato castellino che occorreva fare delle previsioni a lungo termine delle proiezioni a lungo termine è la risposta fu ironicamente ma se nel lungo termine tanto siamo tutti morti che è un'ovvietà ma anche una stupida ovvietà perché è vero che siamo morti ma nel frattempo dobbiamo fare una navigazione di questo sistema di previdenza che eviti che la casa comune si rompa e che quindi per i giovani non restino alternative l'esempio delle baby pensioni è emblematico perché vedete quando furono introdotte alla fine degli anni all'inizio degli anni 80 all'inizio degli anni 80 io dicevo ma in realtà è il 72 la motivazione fu doppiamente sbagliata doppiamente una perché si disse lasciamo che le donne tornino nelle famiglie come dire il lavoro delle donne è in famiglia e conta poco che è miope perché nel nell'economia c'è bisogno del lavoro di tutti e per far funzionare bene un sistema pensionistico bisogna che l'occupazione salga quella degli uomini quella delle donne e uno dei problemi poi magari ne discutiamo drammatici è che oggi il nostro tasso di occupazione è troppo basso rispetto a quello degli altri paesi troppo basso e per giunta avremo sempre meno corti in età di lavoro allora la politica doveva fare questo lasciamo che le donne tornino a casa no grazie oltretutto dicevo una doppia ragione per l'errore perché le donne vogliono la parità e non da oggi la vogliono da ieri dall'altro ieri e il lavoro è una delle questioni su cui la parità è ben lungi dall'essere realizzata quindi tanti errori dovuti sostanzialmente a questa miopia che ha sempre interpretato il sistema previdenziale in un'ottica di consenso elettorale e non in un'ottica di salvaguardare il contratto tra generazioni ecco al professor cotarelli chiediamo professor cotarelli senatore della repubblica esperienza importante nel fondo monetario internazionale commissario la spending review e quindi un focus sempre legato al futuro le proiezioni delle pensioni la demografia come questo è tenuto sotto controllo cose che sono naturalmente raccontate nel testo e che cosa bisognerebbe fare allora prima di tutto voglio anch'io dire questo è un libro molto bello si legge molto facilmente c'è anche impostato in una maniera innovativa nel senso che fondamentalmente è un un dialogo un intervista tra professor tridico ed enrico maro che si vede qui davanti e quindi si legge anche molto molto piacevolmente e poi è pieno di notizie interessanti di fatti e spiegati nella maniera più chiara più chiara possibile è tratto un tema che è fondamentale per tutti parto appunto quando si parla di di previsioni e elsa ha detto giustamente che bisogna fare previsioni a lungo termine è essenziale capire la natura del problema che sta nel titolo nel libro il lavoro oggi la pensione di domani quindi si tratta di si deve guardare previsioni a lungo termine quello che accade fra 40 anni alle pensioni dipende da quello che succede adesso al mondo del lavoro da qui la necessità di guardare in avanti ma non due anni tre anni e vedere se c'è la copertura e cose di questo genere per i prossimi anni qui bisogna fare proiezioni a lungo termine e queste proiezioni a lungo termine sono drammaticamente influenzate in italia dai due fenomeni demografici che hanno caratterizzato ormai gli ultimi decenni il fenomeno il primo fenomeno è il il crollo della 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 natalità e secondo è l'invecchiamento della popolazione civile più a lungo sul crollo della natalità c'è una cosa da capire ogni anno il numero dei nati è sempre più basso si è scesi adesso sotto i 400 mila io sono della generazione quando sono nato io nel 54 si era non era ancora i massimi si era sui 900 920 mila poi si è arrivati quando era il 63 nel 60 si è arrivati al milione ma erano numeri normalmente più grossi da capire che i nati nascono adesso ci sono sempre meno nati per un fenomeno che è invece abbastanza stabile cioè qual è il fenomeno che è abbastanza stabile il crollo del tasso di fertilità cioè il numero medio di figli per coppia che fino alla fine degli anni 60 era intorno un po in discesa ma era nel 69 ancora 2,4 2,8 figli per donna nel giro di 15 anni è crollato a 1,4 adesso siamo a 1,24 guardate è dalla metà degli anni 80 che il tasso di fertilità oscilla tra 1,20 e 1,40 quindi negli ultimi purtroppo è una cosa ci portiamo indietro dalla metà degli anni 80 perché allora uno dice ma perché allora il numero dei nati continua a scendere se il numero di figli per coppia è più o meno stabile perché se vent'anni fa c'erano meno nati dopo vent'anni ci sono meno genitori potenziali e quindi è il gatto il gatto il cane che si morde la coda il cane che si morde la coda è una cosa è un effetto avalanga che per un po viene può essere frenato dall'immigrazione e cose di questo genere ma che negli ultimi anni è stato inesorabile da questo punto di vista il tasso di numero di nati continua a scendere da quasi dieci anni l'altro fenomeno quello del si vive più a lungo ecco uno guardate se vi dovessi dare soltanto un motivo per leggere questo libro per lo meno per sfogliarlo è quello che sta nell'ultima pagina del libro l'ultima pagina del libro ci dice che si si vive più a lungo però lo leggo c'è un problema strutturale che una riforma del sistema pensionistico dovrebbe affrontare quello della differenziazione dell'età di pensionamento in base al lavoro svolto partiamo da un fatto confermato i dati i poveri muoiono prima dei ricchi questo è vero negli Stati Uniti è vero anche in Italia non so se la soluzione non debba essere addirittura più drastica non so se costituzionale ma non guardare al lavoro ma proprio guardare al reddito se uno ha avuto un reddito più basso tendenzialmente purtroppo vivrà con un numero di anni di pensione meno a lungo di chi ha un reddito più alto questa cosa qui e c'è una differenza abbastanza non è soltanto una questione di livello anche l'allungamento è stato maggiore per chi ha un reddito più basso cioè per chi ha un reddito più alto e di questo bisognerebbe tener conto ma non lo si fa tranne che per l'appunto dire hai i lavori gravosi ma allora lì si entra in una cosa che non è osservabile che cosa è gravosa che non è gravosa si dovrebbe pensare in linea di principio come io poi magari sono problemi legali al fatto che tu hai avuto un reddito più basso va in pensione prima certo uno potrebbe dire ah ma allora per più di poter andare in pensione prima lavori meno anche queste cose qui bisogna pensare ora data la legislazione però attuale se guardiamo alle proiezioni le ultime pubblicazioni sono quelle che c'è nel documento di economia e finanza pagina 121 vi trovate una proiezione fatta al 2060 del rapporto tra spesa pensionistica e PIL che sono le risorse disponibili per tutto e la cosa che si vede è che da qui fino al 2042-2043 la spesa pensionistica tenderà ad aumentare poi comincia a scendere nel lungo periodo ma siamo adesso intorno al 16% e si andrà al 17% entro nel giro di 10 anni poi si rimane su quel livello per un'altra decina decina di anni quindi già la tendenza che abbiamo nelle previsioni questa è la previsione di base ci dicono che c'è poco spazio per andare in pensione prima per fare proposte che comportino una notevole discesa dell'età di pensionamento come dico anche a carte ferme c'è un aumento della spesa pensionistica la cosa diventa ancora più se volete preoccupante se si vanno a vedere le ipotesi sotto cui sono fatte queste proiezioni perché ovviamente dipendono dalle ipotesi demografiche dipendono dalle ipotesi sulla crescita del PIL e i fattori che influenzano la crescita del PIL allora vi dico un po' di queste ipotesi su cui come dico sulla base la previsione di base che comunque ci sarà un aumento della spesa pensionistica rispetto al PIL nonostante si ipotizzi primo che la produttività del lavoro italiano che influenza ovviamente sul PIL comincia a crescere arrivando il tasso di crescita che come sapete nei vent'anni prima del Covid è stato dello 0,1% all'anno si arrivi all'1,7% all'anno capite la rivoluzione sarebbe se si riuscisse a fare questo seconda ipotesi il tasso di disoccupazione credo qui non c'è il numero nel DEF ma dovrebbe scendere dall'attuale 8% dovrebbe scendere 8% che è più basso di quello tradizionale siamo già lì sotto ma dovrebbe scendere intorno al 5-5,5% il tasso di partecipazione al mondo del lavoro che adesso siamo già a livelli molto alti per la storia d'Italia siamo al 61% dovrebbe salire al 65% ci dovrebbe essere un aumento del tasso di fertilità cioè il numero medio di figli per coppia dall'attuale 1,24 a 1,52 tendenzialmente e si dovrebbero stabilire in Italia ogni anno 213.000 immigrati fra l'altro fino a qualche anno fa mi sembra che l'ipotesi di base era 150.000 adesso per presentare un quadro un po' più ottimista si è aumentati a 213.000 ha ditolo a Salvini perché mi sa che si preoccuperebbe sapendo che le pensioni questo è uno scenario di base poi il ministero fa anche degli scenari alternativi e fa vedere che se gli immigrati che si fermano in Italia invece di essere 213.000 fossero il 30% in più 33% in più il nostro debito pubblico nel lungo periodo scenderebbe di circa 30 punti percentuali di PIL perché più immigrati vuol dire più gente che può lavorare e andare a sostituire i baby boomers che adesso stanno andando in pressione noi abbiamo perso in assenza di questa sostituzione negli ultimi tre anni abbiamo perso 700.000 persone in età lavorativa allora quando ci si chiede perché ci sono pochi medici va bene c'è anche stato il numero chiuso nelle facoltà di medicina eccetera ma fra poco ci saranno meno medici, meno idraulici, meno tutto meno tutto perché se vanno in pensione 800.000 persone qualcuno non è arrivato purtroppo qualcuno è stato perso per strada vanno in pensione 800.000-900.000 persone sono rimpiazzate da 500.000 è chiaro che c'è scarsità che è scarsità di tutto devo dire e chiudo con questo io sono purtroppo piuttosto pessimista su questi andamenti perché sono difficili le forze demografiche sono molto difficili da combattere io non conosco un paese che da un tasso di infertilità di 1,24 sia tornato verso 2 verso 2 che consentirebbe la stabilizzazione della popolazione conosco paesi che da 1,3 sono arrivati a 1,5 la Germania la Svezia era scesa a 1,5 e risalita a 1,9 ma da 1,24 tornare a 2 sarà davvero davvero difficile ecco presidente abbiamo parlato di pensioni però un tema centrale è il lavoro il lavoro il tasso di occupazione il fatto che molti giovani non trovano lavoro non cercano lavoro questi aspetti come possono essere in qualche modo contrastati perché poi il tema è da un lato c'è un problema di natalità dall'altra parte c'è un problema di occupazione con lavori di qualità perché poi il tema è sempre non soltanto avere un posto di lavoro avere un bilancio di genere e avere un bilancio di qualità del lavoro sì dunque c'è la demografia che come diceva il senatore Cottarelli contro la quale noi possiamo fare poco o comunque se facciamo qualcosa gli effetti li vediamo nel tempo e come minimo fra vent'anni si riusciamo a fare qualcosa di efficace oggi c'è però il lavoro che manca o il lavoro che ci potrebbe essere oggi e su cui non potremmo contare ecco questo sembra paradossale ma è relativamente più facile potrebbe essere relativamente più facile intervenire sul lavoro di oggi mi spiego noi abbiamo circa 23 milioni di occupati su una popolazione di 60 come la Francia più o meno la Francia ha 30 milioni di lavoratori noi ne abbiamo 3.2 milioni a nero arriveremmo a 26-27 milioni di lavoratori ma sempre 4 milioni in meno rispetto alla Francia che ne ha 30 e quindi potremmo agire da una parte su questi 3,2 milioni di lavoratori che non contribuiscono al gettito fiscale contributivo quindi alla sostenibilità del sistema e dall'altro se andiamo a vedere questi pochi lavoratori in percentuale sono prevalentemente tra giovani, donne e sud il tasso di occupazione delle donne in alcune regioni del sud è al 30% è scandalosamente basso oggi sappiamo anche dalla demografia e dalle tendenze culturali oltre che reddituali o meglio dai condizionamenti reddituali che laddove il tasso di fecondità è più basso si lavora anche di meno cioè per anni noi abbiamo anche creduto forse erroneamente qualcuno di noi che lavorando si disingettivasse la fecondità invece oggi sappiamo che i paesi dove i tassi di occupazione femminile sono più alti sono anche i paesi dove il tasso di fecondità è relativamente più alto certo non il 2,5 ma tra l'1,5 e il 2 e parlo dei paesi del nord dell'Europa e della Francia dove ci sono politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia molto forti, molto spiccate noi ancora abbiamo fenomeni odiosi nel nostro paese come quello delle dimissioni in bianco 35.000 all'anno abbiamo un problema sull'entrata dovuto all'incertezza alla mancanza di lavoro di molte donne un problema di fertilità dovuto all'incertezza all'entrata nel mercato del lavoro da parte di molte donne quindi ci sarebbero a mio parere degli interventi su cui si potrebbe intervenire in modo relativamente più facile rispetto alla demografia che sono gli interventi sulle assunzioni di donne e giovani dal resto del legislatore in questi anni si è concentrato su una serie di incentivi ricordo una della professoressa Fornero quando era ministra sull'assunzione delle donne che ha avuto un effetto incentivante per l'assunzione stessa delle stesse così come quelle sui giovani dove appunto anche lì scontiamo dei tassi dei differenziali molto alti ecco se individuiamo i problemi che sono giovani e donne e sud le soluzioni potrebbero essere più focalizzate del resto sappiamo anche da alcune analisi che in IMS abbiamo fatto che gli incentivi e la di fiscalizzazione per le assunzioni quelle fatte in modo generale non hanno un impatto sull'occupazione netta sappiamo invece che laddove si incentiva in modo più focalizzato facendo un targeting della misura più specifica su alcune categorie si riesce ad avere un impatto netto occupazionale quindi ci sono degli strumenti che si possono azionare e poi e qui invece rimango un po' più ancorato a soluzioni diciamo così tradizionali e classiche c'è il sud sul sud probabilmente questi interventi diciamo così incentivanti hanno poco impatto perché il problema è diverso il problema è di natura più strutturale legato non solo alla mancanza di infrastrutture alla mancanza di ma è legato anche a uno spopolamento più forte non c'è soltanto il calo demografico nel sud c'è l'emigrazione dal sud verso il nord abbiamo avuto dagli ultimi vent'anni 1,4 milioni di meridionali che hanno lasciato il sud e il sud è colpito dagli stessi tassi demografici che abbiamo anche per il paese in più è spopolato dal tasso di emigrazione verso le regioni del centro nord e verso l'Europa ecco questo atteggiamento dovremmo fermarlo io in un intervento che ho fatto qualche settimana fa all'università di Cosenza dicevo che non dobbiamo assolutamente accettare che i ragazzi, le ragazze del sud emigrino verso il nord è una falsa soluzione l'attrattività di un lavoro al nord è una falsa soluzione per il sud perché continuiamo ad avere un sud incapace a quel punto di creare sviluppo di creare le condizioni per quel recupero perché se è aggravato dalla condizione demografica oltre alla condizione demografica ci si aggiunge lo spopolamento da migrazione il declino sarà inesorabile e quindi fermare quella tendenza vorrebbe dire intervenire con degli investimenti come dire, piuttosto che con delle incentivazioni che servono a poco in quelle regioni con degli investimenti all'interno di un partenariato pubblico privato di diverse nature che magari non abbiamo ancora conosciuto abbiamo l'opportunità del PNRR anzi avremmo l'opportunità del PNRR che poteva essere per il sud la vera politica di sviluppo se concentrata su azioni infrastrutturali importanti capaci di creare investimenti per assorbire domanda per assorbire l'offerta di lavoro che da quelle regioni viene e se questo succede quindi se attraverso il PNRR si possono scatenare quegli investimenti e poi capaci di esprimere la domanda di lavoro necessaria per assorbire quell'offerta allora quel declino si può in qualche modo ridurre Ricco, alla professoressa Fornero a parte un commento cosa ne pensa di questo tema volevo chiedere molto spesso si sentono aziende che lamentano la difficoltà a trovare lavoratori dall'altra parte il tasso di disoccupazione in più un po' il sentiment almeno sbandierato è che l'immigrazione poi ruba posti di lavoro e adesso aggiungiamoci anche l'intelligenza artificiale come tutte queste cose poi possono essere riportate a quella che è una realtà vera e visto che abbiamo alcuni giovani che non pensano adesso alla pensione perché sono per fortuna loro molto lontani dall'età ma che devono in qualche modo impostare una vita lavorativa io credo che quello del lavoro oggi sia il problema più importante del nostro paese anche perché il lavoro è una parte fondamentale della vita delle persone e quindi avere delle persone che lavorano in nero oppure sono fuori da attività di formazione e attività di lavoro e sono i NEET i giovani fino a 34 anni li contiamo e sono qualcosa tra due milioni e mezzo e tre che non lavorano e non studiano donne che sono al di fuori della forza di lavoro magari per sfiducia perché pensano che tanto di opportunità non ne hanno e questo è oggi il problema del paese e ripeto non è solo un problema economico è un problema sociale di dimensioni enorme è vero che oggi abbiamo il tasso di occupazione rispetto agli ultimi 20 anni più alto ed è vero che per esempio quando si dice le donne non tornano in famiglia in un paese che comunque ha una tradizione agricola quelle donne hanno lavorato hanno lavorato in maniera irregolare ma una volta era più accettabile questo oggi non è accettabile che noi diciamo pubblicamente che l'Inps stima 3,2 milioni di lavoratori in nero che vuol dire evasione di contributi evasione di imposte povertà che magari è minore di quella statisticamente misurata ma che comunque non consente in molti casi uno stile di vita dignitoso come è possibile se noi non risolviamo queste cose e allora se le abbiamo stimati vuol dire che dobbiamo essere anche in grado di riandare di andare a quelle imprese e qui c'è anche una domanda molto forte perché i casi sono due o queste imprese vivono di come dire forse tuo no scusate no perché io sapevo dove aveva spento il mio allora o quelle imprese non sono in grado di sopravvivere se pagano se hanno dei contratti regolari anche con delle paghe come sono oggi quelle italiane basse perché oggi i nostri salari sono bassi e l'abbiamo sentito le statistiche ce lo ripetono siamo l'unico paese che non ha avuto alcuna crescita dei salari negli ultimi vent'anni anzi noi siamo in fondo in fondo proprio l'ultimo posto alla graduatoria con un segno meno di variazione dei salari negli ultimi vent'anni che non vuol dire che alcuni non si siano invece arricchiti perché c'è una fascia alta che invece ha aumentato ma è la media che non è cresciuta e la mediana in particolare e questo vuol dire un problema di povertà lavorativa allora io insisto nel dire che il problema principale oggi in Italia è il lavoro ma guardate che quando si parla di lavoro vuol dire tutta l'economia vuol dire gli investimenti gli investimenti fissi delle imprese quelli che il PNRR dovrebbe contribuire a fornire infrastrutture digitalizzazione transizione verde mobilità sostenibile tutte queste cose che dovrebbero cambiare la nostra vita sono investimenti che dovrebbero anche favorire il lavoro e in parte se questo viene realizzato sarà così ma ci sono poi anche gli investimenti questo è un tema altrettanto delicato e vorrei dire di nuovo strutturale anche qui del divario che esiste tra il mondo della scuola e della formazione e il mondo del lavoro qui ci sono radici anche ideologiche e ce lo dobbiamo dire perché per molto tempo la scuola ha visto le forme di avvicinamento della formazione al mondo del lavoro come una forma di sfruttamento e basta o addirittura come qualcosa che non va bene perché i ragazzi devono avere la mente occupata in formazione importante magari teorica che assolutamente io difendo ma che non vuol dire non aprire gli occhi e non avere magari qualche esperienza di come è fatto il mondo del lavoro e lo dico pensando che dove il tasso di disoccupazione in Italia è dei giovani è più basso ed è sostanzialmente uguale al tasso di disoccupazione generale è il Trentino dove ci sono esperienze di collaborazione intensa tra scuola e lavoro se noi facciamo finta che i due mondi che una cosa è studiare ed è bello è nobile e l'altra è lavorare purtroppo è un qualcosa di necessario ma brutto e tendenzialmente che crea solo sofferenza non risolveremo quindi ci vogliono anche molti investimenti nel capitale umano qualcuno non piace questa espressione diciamo nelle persone se non piace l'espressione capitale umano ma oggi noi abbiamo un grande bisogno di investimenti nelle persone e non è mica un caso che noi siamo tra i paesi con il più basso livello di istruzione superiore basso numero di laureati in rapporto alla popolazione perché noi veniamo da 20 anni 25 in cui abbiamo svilito tutto il percorso educativo svilito in nome magari anche di buoni obiettivi finta inclusione ma l'abbiamo svilito e questo non vuol dire aiutare i giovani ad affermarsi nel mondo del lavoro quindi c'è tantissimo da fare infine lo dico c'è un aspetto che oggi è molto preoccupante e che il covid ha molto aggravato che è l'aspetto motivazionale spesso noi abbiamo soprattutto nei giovani una scarsa fiducia una scarsa speranza nel futuro scarse motivazioni a considerare che il lavoro è anche come dice spesso Papa Francesco è anche manifestare quello che si ha dentro come capacità come ambizioni come aspirazioni non è solo nel lavoro che realizziamo queste cose ma è anche nel lavoro che si possono realizzare queste cose ed è questa un'opportunità che bisogna dare a tutti quindi io dico che vorrei vedere un governo che dice di avere cinque anni davanti che mi metta come obiettivo di portare il tasso di occupazione come dicevi tu Carlo da 60 a 66 67 saremmo sempre dieci punti in meno rispetto alla Germania e circa 20 rispetto ai paesi nordici la Svezia ma se noi portassimo in cinque anni il nostro tasso di occupazione a 67% della popolazione in età attiva avremmo fatto un grande passo avanti in termini di soddisfazione delle persone riduzione della povertà benessere generale del paese ma lo vogliamo mettere come primo punto all'ordine del giorno io credo che questo dovrebbe essere una cosa da chiedere ai politici e diteci che cosa fate al di là del PNRR che non va ridiscusso ripensato no bisogna se vogliamo togliere qualche sciocchezza lo possiamo fare ma il resto va tenuto e tenuto in maniera molto seria Professor Cotarelli il uno sempre pensando al tema della disoccupazione uno dei temi affrontati all'interno del testo è il reddito di cittadinanza che adesso sta subendo una diciamo evoluzione una modifica che però poi da quello che emerge non abbatte la spesa quanto il reddito di cittadinanza può essere uno degli elementi per cui uno non cercava allora noi eravamo uno dei pochi paesi in Europa che non aveva un reddito minimo garantito quindi io ho sempre detto che l'idea del reddito di cittadinanza è una cosa giusta perché nessuno in un paese civile deve morire di fame questa è la cosa più semplice il modo con cui è stato introdotto secondo me aveva due problemi però prima rispondo a questa domanda secondo me il fatto che il reddito di cittadinanza abbia convinto gente a stare a casa forse c'è però non c'è moltissima evidenza empirica che questo sia vero nel senso che appunto se questo fosse vero uno potrebbe avviderlo per esempio con un calo dell'occupazione sul totale delle persone in età lavorativa gente sta a casa invece siamo come è stato detto siamo i livelli massimi di occupazione rispetto alle persone di età lavorativa quindi se c'è questo effetto forse non è così forte come alcuni hanno sostenuto altri hanno criticato il reddito di cittadinanza perché si diceva era uno strumento che in realtà aveva due obiettivi uno fornire un reddito minimo però anche collegato al fatto che ci fosse una ricerca dell'occupazione mentre le due politiche dovevano stare staccate figuriamoci se fosse stato introdotto un reddito di cittadinanza senza dire però chi ha il reddito di cittadinanza deve essere disponibile anche a lavorare si sarebbe approfondito ancora di più questo problema di quelli che stanno a casa in casa in portoro quindi anche questa mi è sembrata una critica sbagliata io però ho due critiche al reddito di cittadinanza una forse saremo tutti d'accordo la seconda lo so che mi vado a cacciare in un'area molto pericolosa ma la dico lo stesso la prima questione è che il reddito di cittadinanza è relativamente generoso per i singoli e proprio poco generoso per le famiglie con un reddito che è stata una delle critiche fatte da Chiara Saraceno nel gruppo messo su dal partito democratico questo per effetto secondo me di una questione di una distorsione di tipo politico quando era stato introdotto il disegno del reddito di cittadinanza di 5 stelle doveva costare 15 miliardi e c'erano delle certe scale di equivalenza cioè dati 780 euro per i single poi per le famiglie si andava su così 5 stelle arrivano al governo insieme alla Lega e la Lega aveva anche qualche altra cosa da fare non c'era più 15 miliardi di disposizione c'erano 7 e mezzo però c'era un numero che non si poteva cambiare perché il numero sacro è quello pubblicizzato i 780 euro per i single per cui quello che si è fatto si è abbassata la scala di equivalenza perché i 780 si poteva dire beh adesso questo fra l'altro è il risultato di un problema generale dei programmi politici partiti si promettono cose poi si arriva al governo e dice non ci sono abbastanza soldi adesso faccio una piccola parentesi di pubblicità io ho presentato un solo disegno di legge ho presentato per ora cioè quello di dire obbligatoriamente i programmi dei partiti politici devono indicare il costo delle misure e le fonti di copertura anche sono sicuro sono sicuro che non sono mai approvato però uno ci deve provare uno ci deve provare uno può anche dire lo finanziamo in deficit è in debito va benissimo non c'è nessuna presunzione che ci debba essere un pareggio di bilancio ma diteci che lo volete fare in deficit i conti devono tornare non sarà mai approvato però io sto pensando che se non va avanti il senato si può sempre trasformare in un disegno di legge di iniziativa popolare 50 mila firme secondo me su questa cosa si trova chiusa ecco bene già raccolto qualcun altro detto questo detto questo tornando al quindi primo problema le scale di equivalenza e la mancata regenerosità del sostegno che viene dato a famiglie numerose il secondo problema invece qui mi vado a cacciare nei guai perché il secondo problema secondo me è questo la logica del portiamo tutti al di sopra della soglia di povertà è legittima il problema qual è che l'Ista certifica che la soglia di povertà è diversa tra grandi città e piccole città e a seconda che sia al nord al centro al sud allora la cosa logica da fare vogliamo portare tutti al di sopra della soglia di povertà questo vuol dire che il re di cittadinanza deve essere diverso a seconda di dove vivi un conto è vivere a Milano un altro conto è vivere a Cremona sempre per rimanere al nord e un altro conto è vivere non so in una piccola città del sud Italia la differenza non è piccola è qualcosa dell'ordine di 500 euro contro 850 euro credo che l'Ista non lo guardo ma fra l'altro l'Ista ti dà proprio un calcolatore che ti dice qual è la soglia di povertà ci metti dentro città di 50.000 abitanti sopra o sotto 100.000 sopra o sotto l'area geografica che ti dice qual è la soglia di povertà allora sarebbe stato logico introdurlo con queste diversità dato un totale di soldi da ripartire qual è l'obiezione che mi è stato fatto a questa cosa è ma i servizi pubblici sono diversi tra Milano e Napoli faccio per dire la qualità è diversa diamo anche una compensazione per la diversità dei servizi pubblici però teniamo conto di tutti i fattori rilevanti che determinano la vera soglia di povertà magari l'Ista calcola male ricalcoliamo bene tenendo anche conto della disponibilità dei servizi pubblici ma la logica dice che se tu vuoi portare le persone al di sopra la soglia di povertà se la soglia di povertà è diversa devi dare l'uguaglianza di trattamento comporta se il potere d'acquisto è più alto è più basso in una città del nord tu quei soldi che dai non sono gli 800 euro i 320 euro che dai al nord non valga gli 820 euro che dai in una piccola città del sud Italia o anche in una piccola città del nord l'altra obiezione che è stata fatta che è molto politica è quella che Cottarelli vuole rintrodurre le gabbie salariali ma non si tratta di una retribuzione di un compenso per una retribuzione la logica è portare la gente al di sopra del livello minimo di povertà e allora se il costo della vita è diverso dovrà essere diversa la montare del sussidio ok grazie a tutti